Vediamo ora in dettaglio la Valle Barines, che è la madre di tutte le valli su Marte. È la struttura geologica più grande del pianeta ed è una valle lunga quanto gli Stati Uniti, lunga 4.000 km e profonda 7, larga fino a 200 km nel suo punto più esteso. Comincia nella zona di Noctis Labyrinthus, una zona ricca di queste fratture sviluppate in tutte le direzioni, è una regione di valli per sprofondamento della crosta, ai margini della regione vulcanica di Tarsis. Infatti, sicuramente, secondo gli scienziati, è stata proprio l'attività vulcanica di Tarsis a innescare la distensione e lo sprofondamento di questa valle. Poi abbiamo il corpo principale, la vera e propria Valle Marines. Questa si sviluppa verso est, scendendo di quota. Nel punto centrale raggiunge la sua massima ampiezza, circa 200 km, e qui si trova un importante sistema di fosse tettoniche, sempre di natura distensive. Poi abbiamo la valle finale o terminale, nella regione più bassa della conca di Craigsby Planita. E vedremo che poi si sviluppa anche a nord, con quel grande sistema di delta che drenava l'acqua verso l'oceano Borealis. Quindi ci sono prove che in passato la valle Marines abbia ospitato dell'acqua, perché, nonostante abbia una natura tettonica, questa presenta molte morfologie per erosione fluviale. E molti dati ci mostrano che ha subito anche inondazioni violente, quindi erosioni molto accentuate. La valle Marines occupa un quarto dell'equatore di Marte, ed è, come già detto, lunga quanto gli Stati Uniti. Se mettiamo a confronto il Grand Canyon con la valle Marines, eccolo qua, il Grand Canyon è molto piccolo rispetto alla valle Marines. Il Grand Canyon ha una profondità media di 1,6 km, in alcuni punti anche due. La valle Marines arriva nei punti maggiori fino a 8 km di profondità. Come si è formata questa valle Marines? Sicuramente l'attività tettonica nella regione di Tarsis ha avuto un ruolo, perché ha sovraccaricato con il peso di successive colate laviche questa zona crostale del pianeta, e che poi ha riversato il carico verso est, innescando quel sistema di distensione tettonica a Graben, che poi ha dato origine alla valle. Infatti qui si trovano proprio strutture parallele di faglie distensive che di fatto danno origine a un meccanismo a Graben, che sulla terra osserviamo, ad esempio, nella famosa Rift Valle Africana, che attraversa dall'Etiopia fino alle coste africane davanti a Madagascar tutta l'Africa orientale. Poi abbiamo la parte terminale a nord, dove sono ben evidenti il sistema di deflusso dell'acqua che drenava questa valle. Questo complesso sistema a delta ci mostra che l'acqua fluiva verso nord, verso le quote più basse del grande bacino Borealis, che si trova nel misforo nord. Questa è la struttura a valle già citata. Abbiamo delle faglie parallele distensive che permettono il scorrimento dei piani, creando uno sprofondamento centrale. Qui abbiamo un'animazione che mostra come funziona. Le forze distensive laterali creano questo sprofondamento, e quindi una valle a Graben. La valle Marines è il prodotto di un collasso per distensione crostale. Il fondo della valle si è abbassato rispetto ai fianchi, grazie all'azione di un sistema di faglie distensive parallele, attraverso il quale è avvenuto lo scorrimento. L'ho appena spiegato. Questo conferma l'origine tettonico-distensiva dell'imponente struttura geologica, anche se, come già detto, contiene molte morfologie di erosione fluviale e idrica. Questo è solamente un estratto della lezione completa dedicata alla geologia marziana. Nella lezione completa spiegherò la grande differenza tra i due emisferi di Marte, quello a sud più alto e ricco di crateri e cura a nord, con una quota più bassa e molto più povero in crateri. Poi vedremo le grandi pianure del pianeta, in particolare la grande depressione del mistero nord, ma non solo, con tutte le sue antiche valle fluviali e le prove di antichi mari e antichi laghi. Vedremo le prove di una pseudotettonica marziana che spiega l'attuale conformazione della superficie del pianeta. E parlerò anche del suo umido passato, un passato quando il pianeta Marte era ricco di acqua e aveva anche degli estesi oceani, un ambiente molto simile a quello che abbiamo oggi sulla Terra. Potete trovare questo ed altro ancora nella lezione completa dedicata alla geologia marziana, la numero 21 del mio corso di astronomia. La trovate sul mio canale YouTube e sulle mie pagine social Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacolo. Grazie. Grazie.